ragazzi veramente bello il gargano stiamo a fare due funghetti col mio zeus passione del gargano guardate bene che bello ce ne andiamo per i boschi pieni di neve alla ricerca di qualcosa bisogna rifare qualche altro ritrovamento chi lo sa spettacolare ragazzi veramente bellissimo hanno 30 centimetri di mille di artezioni il mio zeus il mio zeus mi accompagna sempre purtroppo ragazzi i punti pure se ci sono sono sotto l'anima non si vedono oggi ci stiamo ammazzando per trovarne qualcuno è quasi impossibile solo dove la nive non c'è qualche russo niente 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 domani che abbiamo fatti altri sono qui un saluto dal meraviglioso gargano innevato